Trastevere, casa della comunità di Sant'Egidio, abbellita dalle bandiere della pace e dagli striscioni di benvenuto a Francesco. Il calore delle mani strette dal Papa, l'abbraccio dei poveri e le carezze agli ultimi cambiano il colore della giornata piovosa. In tanti lo aspettano, dai profughi di Lampedusa ai Rom, agli anziani e ai malati. Sant'Egidio, dal 1968, le accoglie, portando a loro al mondo il messaggio di pace del Vangelo. Dopo il saluto ad esponenti di altre religioni, Papa Francesco rende omaggio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere all'icona della Madonna della Clemenza. Poi la testimonianza del fondatore, Andrea Riccardi, che ricorda il sogno di una comunità dove chi aiuta si confonde con chi è aiutato. Toccanti le parole dell'arcivescovo siriano Gianna Kawak e di un giovane profugo afghano scampato alla morte. Tutti i siriani soffrono. Tra loro, tanti cristiani. Tutto il popolo è spaventato. Non ha da mangiare. Non ha più un tetto. Non ha lavoro. Anche di fronte a uno scenario tragico e bloccato, la preghiera disegna un orizzonte diverso di speranza e di salvezza. Ma si deve fare di più per la pace. Non avevamo più acqua e il mare era molto mosso. Il mio più caro amico eseguito di una brutta onda è caduto e non abbiamo potuto fare niente per lui. Sento ancora la sua richiesta di aiuto. Il Papa ascolta commosso e poi prende la parola, ricorda che tutto comincia con la preghiera. È un guardare al Signore per imparare a vedere gli altri, soprattutto i poveri. E poi pone l'attenzione sulle vittime della cultura dello scarto, i bambini, gli anziani e i giovani. Quello che non serve si scarta. Quello che non produce si scarta. E oggi la crisi è tanto grande che si scartano i giovani. Quando pensiamo a questi 75 milioni di giovani di 25 in giù, che sono nì, nì. Nì lavoro, nì studio. Senza. E succede oggi. In questa Europa stanca. Come ha detto lei. Questa Europa che si è stancata non è invecchiata. Stanca. Non sa cosa fare. Eppure, sottolinea il Papa, anche i poveri sono pietra d'angolo per la costruzione della società, dalla quale si vorrebbe cancellare la parola solidarietà, che però non è una parolaccia, dice Francesco, ma una parola cristiana. Per il Papa occorre più preghiera e più dialogo per tenere viva la speranza della pace. Andate avanti su questa strada. Preghiera, poveri e pace. E camminando così aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società, che è la vera rivoluzione, quella della compassione, della tenerezza. A far crescere l'amicizia al posto dei fantasmi, dell'inimicizia e dell'indifferenza. Dopo la preghiera e la visita della comunità, il saluto in piazza Sant'Egidio e l'invito a pregare per i nuovi poveri e per i popoli in guerra. Andrea Riccardi. Direi il Papa non solo ci ha benedetto, ma ci ha chiesto delle cose. E quando la Chiesa e il Papa ti chiedono qualcosa, vuol dire che c'è futuro, c'è una domanda di futuro, c'è una speranza di futuro. Insomma, ci siamo sentiti parti della Chiesa e vicini a questo Papa, un Papa che sta aprendo le vie dell'evangelizzazione, della cordialità e del dialogo col mondo.